Una cosa che sanno in pochi è che all'interno della stessa chiesa cattolica romana ci sono le cosiddette chiese particolari. La più importante è quella di rito latino, che è comunque prevalente nel mondo occidentale. Considerata la più importante è la più antica, quella che viene chiamata anche il patriarca d'occidente. Fino a poco tempo fa il Papa era anche il patriarca d'occidente. In questa zona si diceva una messa in latino una volta, secondo il rito tridentino. Però in realtà non è l'unico rito che esiste, che è esistito nella chiesa cattolica. Per esempio a Milano c'è il rito ambrosiano, nella diocesi di Milano. In realtà coesistono fin dal rinascimento i riti orientali. Biuzantino, Armeno e Alessandrino sono degli esempi. Fino a dai tempi in cui si tentò nel concilio di Firenze di riunire le due chiese. Il tentativo di farli lì, ma alcuni ortodossi vorrebbero comunque sia diventare cattolici a tutti gli effetti. E mantenne le oritiche tradizioni. Il calendario liturgico, eccetera, eccetera. Cioè l'identità orientale è mantenuta. Orientità particolari. E spesso questo è un modo per agevolare le conversioni della chiesa ortodossa o d'arte chiese al cattolicesimo. Si può tranquillamente mantenere il proprio rito, la tradizione, la propria identità e tutto. Però a tutti gli effetti dipendono dal Papa. Ma un'altra cosa che pochi sanno è che nelle chiese di rito non latino i preti possono sposarsi, i vescovi no. Ma addirittura una cosa che pochi sanno è che, in maniera analoga a quello che vi spiegavo prima, negli ultimi anni Benedetto XVI, tramite il cosiddetto luogo vaticano, ha permesso agli anglicani, permette tuttora questa procedura, di passare al cattolicesimo mantenendo la loro identità, il loro messale, eccetera, eccetera. Per motivi che pochi sanno fuori vi spiegherò. Perché molti anglicani vogliono passare, sono passati già al cattolicesimo, preti e vescovi compresi. Siccome negli anglicani i preti e i vescovi possono sposarsi, allora accorre stato questo. Il compromesso raggiunto prevede che i preti potessero mantenere le mogli. I vescovi sposati dovevano accettare di essere, diciamo, retrocessi a preti, invece che a vescovi. Perché i vescovi, appunto, non possono assolutamente sposarsi nella chiesa cattolica. Queste persone sono tutti effetti cattolici, romani, però gli dicono la messa, nel rito anglicano. Comunque, non so, nella chiesa ortodossa, nella chiesa cattolica, i vescovi non si possono sposare, da quello che mi risulta. Nella chiesa cattolica è sicuro. Però nella Bibbia c'è scritto ben altro. C'è scritto, e vi metto la citazione biblica, nel video, è degno di fede, 1 Timoteo 3, il trattimorio di San Paolo, è degno di fede quanto vi dico. Se uno aspira l'episcopato, desidera un nobile lavoro, ma bisogna che il vescovo sia irrepensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento, ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. E quindi faccio una risata. Sape dirigere bene la propria famiglia, e abbia figli sottomessi con dignità. Perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà aver cura della chiesa di Dio? E quindi, infatti nelle altre chiese minori, come la chiesa anglicana, quella vetro-cattolica, altre chiese ancora più piccole, i vescovi si possono sposare.